da dove possiamo accedere a uno dei portali di Dark Hanna. L'ho usato quando io e Catwoman siamo fuggiti. Se quel portale porta Oa, può portarci anche ad Apocalypse. Data Stroke, tu e Joker, mettete in sicurezza quel portale. Questo congegno vi condurrà alla base. Contattatemi quando siete a destinazione. Vuoi che io assalti una base nemica con lui? Andiamo! Uccideremo! Faremo saltare in aria cose! Sarà uno spasso! Catwoman, tu vieni con me. La prudenza non è mai troppa in questa città. Troppi criminali. Superman e Captain Marvel, radunate i vostri supereroi e aspettate il mio segnale. Va bene, Alex. Mi fido di te per il momento.